Ciao a tutti da Vittorio, c'è un fattore molto importante che stanno sottovalutando in molti e voglio discuterlo con voi perché per me può avere un impatto devastante sull'andamento della Lazio di quest'anno e vi faccio un esempio, un paragone. Nel secondo anno di Stefano Pioli, quindi il 2015 se non mi sbaglio, la Lazio fece un errore simile. Stefano Mauri si ritirò, ve lo ricordarrete tutti, era lui il capitano della Lazio, la fascia doveva andare ad Antonio Candreva che l'aveva già utilizzata quando Mauri non giocava titolare, per cui sembrava che Candreva dovesse essere il capitano della Lazio, anche lo spogliatoio lo aveva eletto come capitano. Bene, Lotito e Tare invece la pensarono diversamente, per convincere Lucas Biglia a restare alla Lazio gli offrirono la fascia da capitano. Non so se ve lo ricordate, Biglia ogni estate voleva andare via, parlava di Real Madrid eccetera e ogni estate c'era il tormentone Biglia. Quell'anno Lotito e Tare erano convinti che se avessero offerto a Biglia la fascia da capitano, l'argentino sarebbe rimasto per sempre a Roma, cosa che ovviamente non successe perché due anni dopo, se non mi sbaglio, andò al Milan, due o tre anni dopo andò al Milan. Ma non è questa la cosa importante. Il problema fu che assegnare la fascia a Biglia con lo spogliatoio che invece vedeva un altro capitano è stato uno dei fattori che ha comportato che quella stagione fosse un disastro. La Lazio fu eliminata nei primi eliminati di Champions League, la stagione fu talmente disastrosa che Lotito fu costretto a desonerare Pioli e la Lazio finì malamente con Simone Zaghi che prese la panchina e fece benino diciamo con quello che aveva a disposizione. Ecco, sicuramente non è stato solo quello, ovvero il capitano il problema, ma è stato sicuramente uno degli elementi importanti. Candreva l'anno dopo è andato via arrabbiato con la dirigenza e lo spogliatoio era spaccato perché non sentiva Biglia il capitano ma voleva Antonio Candreva. Ecco, quest'anno si rischia di fare lo stesso errore perché lo spogliatoio, e l'abbiamo già sentito, ci sono state tante dichiarazioni di vari giocatori, hanno parlato Provedel, hanno parlato altri giocatori dicendo che per loro il capitano è Danilo Cataldi. Cataldi deve essere capitano perché è quello che da più anni sta la Lazio, è l'unico cresciuto nel settore giovanile della Lazio, è un laziale vero e comunque lo spogliatoio ha deciso che il capitano è Danilo Cataldi. Bene, Lotito invece la pensa diversamente. Lotito addirittura vorrebbe vendere Danilo Cataldi perché per Lotito e Cataldi insieme al Luis Alberto e Ciro Immobile è stato uno di quelli che ha portato all'esonero Maurizio Sarri. Onestamente non credo che Cataldi sia stato uno dei fattori determinati, però questa è l'idea di Lotito. Lotito vuole vendere Cataldi e soprattutto non vuole capitano perché secondo lui non è l'uomo adatto per essere capitano della Lazio e avrebbe deciso di far capitano Zaccagni. Zaccagni che per adesso è sicuramente il giocatore di più talento della Lazio, forse l'immagine della Lazio per quanto riguarda la qualità, Lotito lo vorrebbe fare anche capitano, un po' come successe con Lucas Vecchia. Adesso Zaccagni è sicuramente un giocatore di grande talento, io però non l'ho mai visto capitano, non l'ho mai visto leader in campo. Sicuramente è un giocatore che può decidere la partita con le sue qualità, ma non mi è mai sembrato di averlo visto gestire, comandare gli altri o fare da leader in campo o fuori. Per me Zaccagni con tutto rispetto non è il capitano giusto della Lazio. Per me Danilo Cataldi deve essere il capitano non perché mi piace a me, ma se l'ha scelto lo spogliatoio è giusto, doveroso rispettare lo spogliatoio. Poi me lo dite a me, io penso che Quendusi per esempio sia un ottimo capitano, anche Rovella mi sembra abbia le stigmati per il capitano, ma è troppo giovane. Probabilmente Romagnoli sarebbe un ottimo capitano, ma il capitano deve essere deciso all'interno dello spogliatoio. Imporre un capitano dall'esterno avrebbe un effetto negativo in una stagione già complicata perché allenatore con zero esperienza ad altri livelli, gruppo molto giovane, insomma se già all'interno dello spogliatoio ci fossero dei problemi la stagione potrebbe andare malissimo. Per questo io dico che lo Tito e Fabiani che vogliono imporre Zaccagni come capitano sarebbe un errore gravissimo. Se lo spogliatoio ha scelto Cataldi, il capitano deve essere Cataldi. Ovviamente questo è il mio giudizio, quale è il tuo, scrivimi e metti qua sotto e noi ci rivediamo prossimamente in un altro video. Grazie.